Quanti anni avete? Io ho 14 e devo fare la novembre 15. Quanti anni avete? 15! Ok? E vi posso con questa musica che chiamano altre tipologie di musica? Sì, anche l'art, il sport, il cinema, soprattutto queste, tutte le spagate e delle stagia che sono delle tre. Ma che buon piatto! Ok? Che rosso piatto! Oh, carava! Quante è che è per me spesa di rosca? Pasco! Pasco è il mio preferente! Quanti anni avete più o meno? 18 18 Perché siete qua? Questa è pessima Perché siete qua? Cosa vi piace? La musica La musica La musica e basta Che musica ascoltate? Questa è più bella Il DJ è la ausa Ok Il rock vi tagliare No No Portatevi via Cos'è che? La rock secondo voi Il rock Sempre è di più Lo diamo Il rock È il rock L'esco Il rock Il rock Con l'esco La musica e la musica Quanti anni avete? 13, come fai che vi tepone queste cose? Perché è bello? Ma perché vi piace la musica? Ok, ciao, saluta, brava. Non ti preoccupare, sì che vi sto facendo. L'intervista vi sto filmando. Ok, e cosa vi piace di questa musica? Perché vi piace questa musica? Perché ti diverte a ballare. Perché ti diverte a ballare? E cosa vi... Il rock vi piace? Non vi piace il rock? Ma vi fa proprio schifo. Ma come mai? Perché è troppo forte. Perché? È troppo forte. E questa non è forte? Eh, però quello di festa. Ah, il rock festa. E le parole? Non mi interessano le parole delle canzoni. Ma c'è anche il rock in Italia. Cos'è che c'è di rock in Italia? Vasco Rossi. Vasco Rossi. Hai detto Vasco Rossi, no? Liga a due. Liga a due, tu dici? Ma bello. Non ti preoccupare, non ti vedrete più. Va bene, dai. Ma vedi da qualche parte? Eh, vedi. No, no, no. Vi saluto e vi ringrazio. E un ultimo saluto ai miei amici della Toscana di Riva degli Etruschi. Dove vai? Questa sera che sono venuti a trovare. Vieni qua, vieni qua. Vieni, vieni, vieni. Allora, qui non abbiamo ancora fatto l'applauso più grande, signori. Se siete qua questa notte, se questo festival è potuto fare quello che avete visto, dovete ringraziare quest'uomo, signore. L'urlo più forte va per Marco Gruppi, come sempre. Forza! Allora, direi che siamo già messi bene, ma il prossimo artista è veramente di quelli grossi. Lui ogni anno è fisso al Benny Benassi & Friends, con lui collabora, sono amici, gira tutta l'Italia, le sue produzioni girano in tutto il mondo. Signori, sempre, solo l'urlo, mister Giavide Rivas! L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro, le mareggiate, le code di balena, il cielo senza l'urla. L'estate addosso, bellissime tonere, le stelle se ne guardi, non vogliono cadere, la nella è sulla spiaggia, tra un mare di mattina, protezione zero, spolmata sotto il cuore. Prima che il vento si porti, e che il settembre ci porti una strana felicità, pensando ai geni sbocati e ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. L'estate la libertà, respira questa libertà, respira questa libertà. Iscriviti al nostro canale! Iscriviti al nostro canale!